Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore. Che tipo di qualità servono per portare al grande pubblico, soprattutto a un pubblico cinematografico, quindi un pubblico molto vasto, una storia importante come quella della giornalista Federica Angeli? Ma che qualità servono per scriverla? So che poi lo chiederà la scrittrice e quindi io le posso dire la qualità, che poi non esageriamo con la qualità, un po' di istinto, un po' di curiosità, un po' di valutare l'importanza di una storia, dal punto di vista, parlo registico, autoriale, artistico, diciamo così, e cercare poi appunto chi riesce a trasferire o insieme a te o insieme addirittura al protagonista di una storia vera. Io ho fatto tanti film su storie vere di persone e quando erano vive avevo la loro collaborazione e quando non c'erano più c'era o la madre piuttosto per quello che riguarda Pantani o quando ho fatto il grande Torino con tutte le vedove, i figli dei giocatori che erano... Perciò, come dico sempre io, non c'è mai una qualità precisa. Ogni film è storia a sé. Ogni film nasce una volta da un libro, una volta da un fatto, da un racconto che mi fa qualcuno e serve anche un po' di istinto, ecco, diciamo così, un po' di gusto, un po' di istinto, un po' di sapersi scegliere le persone che stanno con te per portare a termine il tuo progetto. E da un punto di vista tecnico si può dire soddisfatto appunto del risultato raggiunto anche e soprattutto visto, insomma, la delicatezza? Sì, beh, questa è giusta la sua domanda perché bisogna stare un po' più delicati, come ha detto lei, sulle storie vere delle persone bisogna avere un po' più di riguardo. La soddisfazione è che con la tua coscienza sia posto di aver fatto tutto il tuo possibile. Poi, come le cravate, dico io, sono i film, c'è a chi piace la cravatta a riga, a chi non gli piace. Un film, anche tante volte dei capolavori sono stati criticati, il mio film non è certo un capolavoro, ma è un buon film italiano, nella media di una cinematografia dignitosa e io sono molto contento del risultato. Alcuni critici, anche i più ostici, ne hanno parlato bene, poi ci sono i tuoi, non dico nemici, ma avversari che hanno amici critici che ne parlano male, ma questo fa parte del gioco, diciamo, del gioco, come dite... Quali sempre la pena giocare? Ma sì, ma sì, perché se non ti... infatti fanno bene gli inglesi che dicono play e play, no? Play quando l'attore recita teatro e play quando gioca. E quindi, sì, io ci metto anche, mi diverto molto anche, anche con storie drammatiche, questo non vuol dire, ma ti diverti a scavare, ti diverti a discutere, ti diverti a confrontarti, ti diverti, come dicevo io prima, con chi ha scritto questa sceneggiatura, mai litigare, discutere su come tu lo vorresti e come lui o lei lo vede, capito? Questo è un equilibrio che, il risultato per quello che riguarda Mano Disarmata, credo sia stato positivo. Grazie. Grazie a lei.